Sospiri, Forza Italia parla di Totò Truffa su ticket sanitari ospedali, perché? Siamo a remake di un noto film di Totò, se non fosse invece una situazione tragica ci sarebbe veramente le ridereci su. 5 agosto, dopo una battaglia durata un anno, le opposizioni sono riuscite a correggere il regolamento che applica il pagamento del ticket socio-sanitario ai tanti abruzzesi che hanno bisogno per evitare una ricaduta pesantissima sulle loro tasche. Con una circolare di questi giorni, come se una circolare potesse superare il dettame di una legge, che è tale appunto perché si legge e c'è scritto che l'intero costo del ticket socio-sanitario a carico di utenti e comuni è coperto dalla regione, si invece invita le strutture residenziali e semi-residenziali che erogano queste prestazioni a fatturare la quota dell'utenza direttamente all'utente, ovvero alle pensioni di accompagnamento o al pagamento del ticket appunto da parte dei familiari. Questo è vergognoso, è una vera e propria truffa ai danni e agli abruzzesi in cui si cerca di far entrare dalla finestra il ticket come nuova tassa che noi eravamo riusciti perlomeno a chiudere fuori la porta. E sugli ospedali siamo a ridicolo. Polucci dichiara a Urbi e Torbi la sua soddisfazione per aver visto da parte delle strutture del Ministero Economico e della Salute approvare il piano di riordino a rete sanitaria che tiene gelosamente segreto, non dice agli abruzzesi che riporta a casa 10 ospedali in meno tra declassamenti e chiusure da Giulianova a Atri, da Sant'Omero a Penne, da Popoli a Sulmona a Castel di Sangro e non dice soprattutto che ci saranno 9 pronto soccorsi in meno.